Potrebbe essere l'ultimo sussulto della sua già lunghissima carriera, anche se nell'ambito del ciclismo è difficile compiere questo tipo di pronostici. Di certo però ieri Rinaldo Nocentini ha messo al collo un'altra bellissima medaglia, con la conquista del terzo posto assoluto nel campionato italiano con arrivo a Biella. Alle soglie dei 40 anni e alla diciottesima stagione da professionista, il Rinaldigno di Montemarciano non ha potuto reggere l'urto di Fabio Aru, che nel finale della corsa in linea in Piemonte ha scavato un solco da 40 secondi sul resto del gruppo. Sul traguardo però lo sprint che per il posto d'onore ha visto vincere Diego Ulissi ha anche comunque appunto portato Nocentini sul gradino più basso del podio, davanti a Caruso, primo degli esclusi della premiazione. Ecco la dichiarazione di Nocentini al termine della gara, per me è importante arrivare sul podio essendo in una squadra portoghese, peraltro non corro quasi mai in Italia due mesi fa, non sapevo se avrei partecipato al campionato nazionale. L'ho preparato però bene, ma quando ho visto Aru andar forte come ha delfinato, ho capito che sarebbe stato duro rimanere con lui.